Il referto del tampone non arriva in tempo utile e la prestazione sanitaria è da riprogrammare e quando è accaduto ieri a un paziente dell'area Peligno Sangrina che ha denunciato il caso alla nostra emittente televisiva, essendo stato costretto a rinunciare all'esame che aveva prenotato. La refertazione dei tamponi molecolari svolti lo scorso 20 settembre a Palasport ha subito ieri dei ritardi nella trasmissione dei dati legati probabilmente ai flussi informatici. Non pochi disagi le segnalazioni, tra cui quella del paziente, che ripropone una problematica importante, ovvero la necessità di creare un percorso ospedaliero ad hoc per i tamponi. Gli utenti che devono accedere alle prestazioni sanitarie, nel caso in questione una coloscopia, vengono infatti dirottati nel drevin della ASD inseriti nel circuito di refertazione. Il rischio, come del resto avvenuto, è che i tempi di trasmissione dei referti non coincidano con le esigenze del paziente. Su specifica disposizione della direzione sanitaria, in ospedale vengono svolti e processati solo i tamponi per i sospetti covid intercettati nel pretriage, per i pazienti da ricoverare, per le prestazioni urgenti e pronto soccorso. Niente tamponi per chi deve sottoporsi a un esame. In quel caso l'utente si mette in fila con la ASD e viene inserito in una delle tre sedute settimanali del lunedì, mercoledì o venerdì. Una scelta che negli ultimi mesi ha scatenato varie reazioni, oltre ad aver provocato qualche difficoltà. Se in ospedale esiste un macchinario che processe i tamponi, ottenuto peraltro con tanto di rivendicazioni, perché non viene utilizzato anche per le prestazioni intra-ospedaliere? Si chiedono gli utenti. Un problema che va avanti da tempo, che andrebbe adeguatamente affrontato.